Un'iniziativa destinata a toccare l'intera regione Lombardia che questa mattina a Bergamo, in Palazzo Frizzoni, sede del Comune, ha visto la consegna di quattro carrozzine elettriche da parte dell'organizzazione di volontariato Cancro Primo Aiuto. I quattro presidi progettati per assistere pazienti in stato di ridotta mobilità sono destinati alla SST Bergamo Ovest, all'ospedale Papa Giovanni XXIII e all'istituto Humanitas Gavazzeni. Presenti alla cerimonia di consegna il sindaco di Bergamo Elena Carnevali, l'europarlamentare Giorgio Gori e Flaio Ferrari a Didi Cancro Primo Aiuto, assieme ai rappresentanti degli istituti destinatari delle donazioni. Sono molto contenta come rappresentante della comunità bergamasca e del rapporto con questa associazione. Oggi la consegna di queste carrozzine, quindi con modalità elettrica, ma nelle prossime occasioni davvero sono sicura che potremo continuare a far crescere le collaborazioni. È l'ennesima dimostrazione di come l'iniziativa concreta, efficace di Cancro Primo Aiuto può davvero fare la differenza nella vita di chi ha condizioni di fragilità e di bisogno. E quindi grazie. Stiamo facendo rete con anche altri ospedali che riceveranno lo stesso dono per rispondere a un bisogno di trasporto anche all'interno di queste strutture che molto spesso serve. È un tema non tanto legato all'oncologia ma comunque un tema che risponde a un bisogno, caratteristica che poi noi stiamo seguendo di rispondere ai bisogni che man mano incontriamo sul nostro cammino. Grazie. 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 Grazie.